Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le radici del futuro, il primo laboratorio televisivo rurale. Oggi ci troviamo presso il polo fiorentino dell'istruzione agraria, a due passi dal centro storico di Firenze ma immersi nel verde del parco delle Cascine. In questa puntata speciale scopriremo ben due scuole, l'istituto tecnico agrario e l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente. Lo faremo grazie all'aiuto delle guide di oggi, abbiamo qui con noi il professor Sabatini, Stefano Sabatini e Dorotea Lunghi, studentessa al quinto anno. Professore, qui a Firenze i ragazzi hanno la possibilità di scegliere tra ben due percorsi di studi in questo ambito, perché? Poi quali sono le differenze? Sì, infatti abbiamo un istituto tecnico e un istituto professionale. La differenza sta nell'approccio con i vari argomenti, più tecnico, più teorico all'istituto tecnico, più professionale, quindi più mirato all'entrare rapidamente nel mondo del lavoro per quanto riguarda l'istituto professionale. Con la riforma è cambiato molto nelle vostre scuole, in questo caso quali sono le differenze anche rispetto ai due percorsi? Il grande cambiamento è stato la riduzione d'orario e quindi la possibilità, anzi la non possibilità di avere esercitazioni come nel vecchi ordinamenti in azienda. Quindi abbiamo la riduzione a 32 ore, ci ha costretto a ridurre quelle che erano le attività insieme all'insegnante tecnico pratico nei vari laboratori e soprattutto nelle serre e nell'azienda. Prima di cominciare il giro di oggi, il punto di forza di questo istituto qual è, professore? Il punto di forza è il fatto di vivere in un ambiente a contatto con la natura sempre, 365 giorni l'anno, anche quando gli studenti non ci sono, perché le attività vanno sempre seguite e continuate. E quindi questo, specialmente per i ragazzi, è un motivo per vedere il loro futuro mirato all'ambiente, alla natura e al rispetto dell'ambiente stesso. Ecco, Dorote, a proposito di questo, quanto è importante per voi poter contare anche su spazi verdi come questi? Io credo come studenti di questa scuola sia fondamentale per noi ragazzi, perché un giorno noi usciremo da questa scuola e saremo periti agrari, saremo esperti della terra. E quindi per noi è fondamentale non saperla soltanto dal punto di vista teorico, quindi studiando agronomia, chimica, agraria, zootecnia, biologia, ma studiarla anche perché si è toccata, si è sentita, si è lavorata e questo ci permetterà in futuro di avere delle basi più solide per il nostro futuro lavorativo, per essere più esperti, più capaci. Un futuro che comincia proprio da qui. Certo. Allora, dobbiamo iniziare il nostro percorso, da dove partiamo? Partiamo dal Giardino d'Oroso, dove i miei compagni di classe stanno lavorando. Beh, andiamo. Professor Baldini, descriviamo il luogo dove ci troviamo, siamo vicino all'Ottagono, un simbolo della vostra scuola. Sì, l'Ottagono rappresenta un simbolo perché rappresenta la tecnologia applicata all'agricoltura. Quelli che noi vedete qui come muretti in realtà sono delle condotte d'acqua e quindi al momento della costruzione questa era un'applicazione che veniva utilizzata per facilitare il lavoro aziendale e quindi è stato riportato come simbolo sperando che la tecnologia aiuti e venga sempre utilizzata per la gestione dell'attività agricola aziendale. C'era addirittura un asinello qua dentro? Il motore di tutto il meccanismo era un motore animale, un asinello che girava intorno al pozzo e sollevava l'acqua fino al deposito che era in sommità dell'Ottagono. E qui a fianco vediamo un altro fiore all'occhiello di questa scuola, il Giardino Odoroso. È la professoressa Baldini, la vediamo laggiù, che segue ormai da cinque anni. Questo progetto l'ha visto nascere e crescere. Professoressa, vedo che siete impegnati con la planimetria, con la sua studentessa. Ecco, intanto questo progetto come è nato? Di che cosa si tratta? È nato da una collaborazione tra i nostri studenti, è stato progettato interamente dai nostri studenti su richiesta e proposta dei ragazzi non vedenti della scuola Nicolò di Percechi di Firenze. È stato testato quindi direttamente da loro tutte le idee che sono venute fuori dai ragazzi. E alla fine è venuto fuori un percorso apprezzato poi da tutti. Oggi vengono a visitarlo non solo i non vedenti, ma tutti quelli che hanno interessi botanici particolari. Professoressa Baldini, come è strutturato questo percorso tattile e profumato? Il percorso, vedete, ha una forma trapezoidale e c'è una canaletta antica di irrigazione per scorrimento che lo circonda. Il non vedente può addentrarsi nel percorso autonomamente utilizzando la corda guida e cominciare a rendersi conto delle varie essenze che sono coltivate nelle diverse aiole in cui è sezionato il percorso. Le essenze sono prevalentemente piante aromatiche, apprezzabili quindi all'olfatto, ma anche al gusto o al tatto, cercando di stimolare tutti i sensi della persona. Quindi piante diverse che possono stimolare tutti i sensi, non solo dei non vedenti, anche i nostri. Paola, so che tu hai seguito il progetto Accendiamo il Buio, insieme anche a un'altra scuola, altri ragazzi. Raccontaci che esperienza è stata, cosa hai imparato? Ecco, come ha già detto la professoressa Baldini, noi abbiamo potuto fare questo progetto grazie alla collaborazione dei ragazzi del Nicolodi e alla passione anche dei nostri professori. Abbiamo potuto noi ragazzi rapportarci con una realtà diversa, che è proprio la realtà dei non vedenti e questo giardino ci ha dato anche modo di mettere in pratica le materie che noi studiamo, la teoria, in classe, come la botanica, che abbiamo quindi potuto scegliere le varie piante da mettere in questo giardino. L'estimo, quindi l'economia, per fare una stima approssimativa dei costi che abbiamo dovuto sostenere per realizzare questo progetto e anche tutte le altre materie inerenti al nostro corso di studio, comunque. Come ha già detto, è stato apprezzato comunque da tutti, vedenti e non vedenti. È stato anche uno scambio, perché so che questi ragazzi hanno proposto anche a voi un'esperienza particolare. Sì, ci hanno proposto questa esperienza, è stata chiamata Bar al Buio, che è stata effettuata durante la festa di primavera. È stata questa stanza allestita completamente al buio, con degli assaggi, quindi la persona comunque vedente doveva mettersi in gioco, quindi anche poter indovinare quelli che erano i cibi che sono stati proposti e quindi doveva utilizzare anche il tatto, comunque quei sensi che noi diamo per scontati o che utilizziamo meno rispetto alla vista. Quelli che siamo meno abituati a stimolare, cosa che invece questo giardino insegna proprio a fare. Allora, io devo assolutamente provarlo, mi guidate voi? Prego. Andiamo. Grazie a tutti. Ci siamo spostati nel Parco delle Conifere, una realtà importante per questa scuola. Ma perché il vostro istituto, professore, ha investito addirittura in un intero parco dedicato a questi alberi? Allora, il parco è nato prima dell'istituto. Noi l'abbiamo conservato proprio perché da un punto di vista didattico il poter vedere delle piante di gran parte d'Italia favoriva specialmente negli anni 60, negli anni 50 la possibilità di avere una conoscenza dal vivo di questo ambiente. Nel corso degli anni ovviamente con le tecnologie più moderne si può utilizzare su siti diversi, ma storicamente noi abbiamo voluto mantenere quello che era e abbiamo continuato a mantenere i cartelli didattici per spiegare ai ragazzi quello che possiamo trovare in natura. Quindi per studiare le diverse specie. La signora Teresa è l'assistente tecnico che segue da vicino i ragazzi nelle ore di studio, che è praticamente di attività che svolgono qui. Innanzitutto che attività è? Come si trovano i ragazzi? I ragazzi svolgono le loro ore di esercitazione anche all'interno del parco delle conifere che ha una sua valenza specifica perché qui sono conservate delle specie di conifere non facilmente reperibili comunemente e quindi i ragazzi hanno la possibilità di osservare le caratteristiche botaniche di alcuni tipi di piante vedendole direttamente. Ovviamente nel tempo ci sono state delle modifiche, sono state sostituite delle piante che via via si erano deteriorate perché questo è un giardino che nasce nella seconda metà dell'Ottocento. È vero che gli studenti imparano anche a stabilire l'età di questi giganti verdi? Si riesce a stabilire l'età con particolari sistemi. Ovviamente il sistema più comune sarebbe quello di, una volta abbattuto l'albero, di contare gli anelli di accrescimento della pianta. Signora Teresa, una curiosità, ma i ragazzi con questo tipo di studi riescono a sviluppare anche una coscienza ambientale maggiore dei comportamenti virtuosi in questo senso? Certamente, certamente perché riuscire innanzitutto a conservare nel tempo delle specie botaniche che spesso non sono neanche dei nostri climi e dei nostri territori ovviamente accresce le loro conoscenze e soprattutto poi noi cerchiamo di sviluppare nei ragazzi anche una coscienza ecologica per esempio raccogliendo i detriti, i residui vegetali e utilizzandoli poi per fare del compost e dei terricciati che riutilizziamo noi nelle nostre serre, nelle nostre coltivazioni. E un altro dei comportamenti virtuosi dei tanti, professore, che questa scuola promuove è la conoscenza delle proprietà benefiche delle piante ufficinali. C'è un giardino intero dedicato a questa attività, vero? Certo. Andiamo a vederlo. Siamo con la professoressa Aliotto. Professoressa, i suoi ragazzi in questo momento si stanno prendendo cura di piante che curano. Ecco, quali sono le caratteristiche e le proprietà di queste piante ufficinali? Le piante ufficinali derivano questo nome, ufficinali, dalla parola ufficina che era il laboratorio farmaceutico dove venivano trattate per estrarne i principi attivi. E sono proprio questi ultimi principi attivi le sostanze chimiche che fanno le loro caratteristiche curative. Le proprietà delle piante ufficinali sono numerose, espettoranti, digestive, toniche, colagogue, rilassanti, sedative. Tutti le conosciamo. Sono piante molto, diciamo, gradevoli anche sotto l'aspetto estetico e purtroppo in questo momento diciamo che siamo proprio nel momento sbagliato perché il momento migliore è la famosa notte del solstizio estivo e cioè la notte di San Giovanni che è lontana purtroppo. Quindi molte piante spunteranno perché sono sia erbacee e quindi perennie. Quindi tra poco le vedremo gettare e quelle perennie invece le vediamo, gli arbusti e infine poi ci sono anche degli alberi curativi. Quindi molto verrà a primavera. Ma i ragazzi già se ne prendono cura appunto adesso. Intanto professoressa, una domanda. Come si riesce a appassionare i ragazzi ad un sapere che è un sapere antico, diciamocelo? Si riesce a stimolare la loro curiosità? Noi facciamo leva su questa curiosità innata nei ragazzi, proprio di conoscere un aspetto che molti di loro già hanno ereditato dalle famiglie perché parecchi ragazzi vengono dalla provincia e conoscono già queste virtù medicamentose. Quelli che vivono in città invece sono ancora più stimolati a conoscerle. E poi anche questo desiderio di tornare a un rapporto più diretto con la natura. Noi da millenni ci curiamo con le piante officinali e solo ultimamente si erano un po' tra virgolette abbandonate. Ecco l'Istat ci dice che vengono prodotte in Italia 2.500 tonnellate pensate di piante officinali. Ecco quindi diciamo che è un settore non colpito dalla recessione. Come mai? È una moda oppure è una reale necessità? Ma io direi che le piante officinali sono un classico. E come tutti i classici non passano mai di moda, anzi reggono a qualunque crisi. Perché sono state definite nel Medioevo i semplici. Noi a Firenze abbiamo un bellissimo giardino dei semplici. E si chiamano semplici proprio per la loro diciamo immediatezza e facilità. Sia nel coltivarle, sia nell'utilizzarle, sia nel trarne tutte le benefiche diciamo doti. Sia estetiche sia ovviamente curative sul nostro organismo. Ora facciamo tornare la professoressa al suo lavoro. Noi ci sposteremo nel museo, ma intanto andiamo a vedere che cosa ci propone questa settimana la rubrica Fuoricampo. Spesso nell'immaginario collettivo abbiamo un'immagine dell'agricoltura un po' romantica. Il contadino, l'aratro, il trattore. Mentre oggi il settore è in grandissima evoluzione per rispondere sia alle sfide del mercato futuro e anche al momento di crisi che attraversa l'agricoltura. È vero c'è questa immagine, ma devo dire che non è così. Sì, soprattutto lo sforzo che le imprese stanno facendo in questi ultimi mesi, devo dire anche di fronte a un momento di difficoltà economiche e anche di difficoltà di accesso al credito. Abbiamo avuto la dimostrazione che grazie alle misure del PSR, che attualmente è in fase di scadenza con questa annualità, partito nel 2007, aveva una misura specifica chiamata cooperazione per l'innovazione che aveva proprio l'obiettivo di coniugare l'innovazione prodotta dal mondo della ricerca con i fabbisogni delle imprese. Devo dire che questo è stato un successo, anche perché la Toscana intanto ha nel suo territorio, a Firenze, la più vecchia accademia di agricoltura che ci sia a livello mondiale, è l'Accademia dei Giorgofili. Ha un'Accademia nazionale del settore forestale, l'Accademia Italiana delle Scienze Forestali, tre università, istituzioni del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura che afferisce al Ministero dell'Agricoltura, ha il CNR con due poli, quello fiorentino e quello pisano. Quindi l'eccellenza scientifica non ci manca e lo sforzo è quello di avvicinare il mondo delle imprese al mondo della ricerca e viceversa. Sono stati presentati nell'ultimo triennio 59 progetti che sono stati finanziati, i progetti presentati sono molto di più, ma l'opportunità è stata quella delle imprese che hanno colto questa misura inserendola nei progetti integrati di filiera che sono stati presentati in risposta ai bandi regionali, dove la stragrande maggioranza dei progetti ha previsto proprio l'applicazione di questa misura per l'innovazione. Innovazione quindi vuol dire maggior impegno anche dei giovani del settore agricolo? Certo, io devo dire che anche in questi progetti che come Presidente della Commissione di Valutazione mi sono trovato a esaminare ho visto molti giovani, molte imprese che si sono interfacciate anche nel venire a chiedere domande e informazioni sui bandi regionali che danno un senso, voglio dire che sia possibile un ringiovanimento auspicato in questo senso. La Regione fra l'altro si è fatta promotrice, grazie all'assessore Salvadori, di un'iniziativa che ha voluto mettere insieme tutte le scuole a indirizzo agrario, siano questi istituti tecnici o professionali che le università, non solo quelle di agraria ma anche le facoltà di veterinaria, insieme al mondo della produzione e agli ordini e collegi professionali proprio per portare avanti una strategia nella logica di occupazione e quindi di fare e di sfornare anche dei prodotti da parte della scuola che siano effettivamente quelli che il mercato del lavoro richiede. Siamo arrivati nel Museo della Didattica in Agricoltura. Professoressa Boni, perché un museo in una scuola? Questo museo, un po' come tutti i musei, nasce dall'esigenza di raccogliere e conservare materiale vario che, diciamo, in gran parte viene proprio dal nostro istituto. In parte, invece, è stato donato da istituti qui dei dintorni e rappresenta sicuramente un materiale assolutamente importante per i nostri alunni proprio dal punto di vista della didattica perché qui si attingono appunto molte informazioni e anche oggi appunto i nostri alunni stanno facendo un'esercitazione di botanica. Ci sono dei modellini dai quali appunto possono vedere molte cose che dai libri di testo non possiamo appunto apprezzare. Abbiamo numerose collezioni, diverse sezioni, ne abbiamo una di zoologia, una di mineralogia, botanica appunto, poi ci sono modellini di macchine agricole, di attrezzi che sono al piano di sotto, come vedete qui delle foglie di tabacco che risalgono in epoche abbastanza lontane e devo dire che qua dentro sono raccolte molte cose preziose. Ma quali sono i pezzi più preziosi che voi avete qui? I pezzi più preziosi direi che sono proprio in questa stanza perché sono rappresentati da questi modelli, da queste cere che sono state fatte nell'Ottocento da un certo Francesco Valletti Garnier che era un torinese, pensi un po' era uno che produceva confetti, si dilettò appunto in queste opere riproducendo in maniera molto fedele tante varietà, non solo di frutta ma come vede qua anche di verdura che sono dell'epoca in cui lui è vissuto. Quindi questo materiale rappresenta non soltanto una fonte per i nostri studenti ma anche per molti ricercatori che appunto non reperiscono più in altro modo dei modelli di questi frutti perché ormai sono scomparsi, queste varietà non si coltivano più diciamo a seguito un po' della globalizzazione della frutticoltura anche e quindi chi vuole attingere a questo materiale può farlo, chiunque può venire a visitare questo museo, non è un luogo chiuso, può prendere appuntamento per visitarlo oppure approfittare anche di quelle settimane in cui è aperto tipo la festa di primavera. Allora andiamo a vedere anche i ragazzi nell'aula a fianco che stanno facendo proprio un'esercitazione. Stanno lavorandosi di botanica. Vediamo Elisa impegnata a studiare con un modellino didattico, cioè Elisa stai facendo un disegno, che cos'è? È un disegno di una fragola che è della famiglia delle rosacee cui le caratteristiche sono di avere cinque fetali e poi ci sono anche i sepali e gli stami che sono tutti i multipli di cinque proprio perché è una caratteristica della famiglia del rosacee. Qua nel laboratorio, nel museo, noi veniamo spesso, veniamo circa una volta in mese per vedere le caratteristiche di biologia più dal vivo. Quindi sono le stesse piante che magari troviamo fuori, che abbiamo visto anche all'esterno, però qui in grande. Che studiamo anche sui libri. Perfetto, allora io voglio fare una domanda anche a te Dorotea. Ti ritroviamo qui, ti avevamo lasciato fuori, ti vediamo impegnata. Perché è importante studiare anche attraverso questi modellini, proprio queste materie? Non basta studiarle nei libri come teoria? Questi sono strumenti importanti quando ci accingiamo a studiare le parti minuziose di un fiore e di un animale perché in natura non sarebbero facilmente visibili, mentre in questo modo possiamo osservarli meglio, possiamo scomporre modellini e quindi ci permette di ottimizzare, di migliorare la nostra preparazione su quella pianta, su quel fiore. Quindi è un bel aiuto, io starei ora ad ascoltarvi perché questo luogo è davvero magico. Però il nostro tempo a disposizione è finito, per questa scuola ci dobbiamo spostare nell'altro istituto, quindi nel professionale abbiamo altre due guide che ci stanno aspettando. Vi ringraziamo e vi lasciamo al vostro lavoro. Arrivederci. Siamo arrivati all'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente. Siamo qui con altre due guide che ci aiuteranno, il professor Mazzocchi e Gianluca Terrazzano. Professore, intanto ci spieghi quali sono le caratteristiche che contraddistinguono questa scuola rispetto all'altra che abbiamo già visto. Dunque, la nostra è una scuola operativa radicata sul territorio e oltre a occuparci dell'istruzione noi seguiamo anche il percorso della formazione regionale. Gli studenti durante le classi quarte e quinte fanno gli stage nelle aziende convenzionate e imparano il mestiere che poi svolgeranno durante la professione. Quindi stage nelle aziende vivaistiche, nel settore vitivinicolo, nel settore agroindustriale. Quindi le attività pratiche hanno una grande importanza qui. Gianluca, quali sono quelle che vi entusiasmano, anche che vi piacciono di più? Sì, in questo periodo dell'anno ci stiamo praticando soprattutto sul discorso della potatura di alberi da frutto per quanto riguarda il campo, mentre in Serra ci stiamo organizzando per iniziare quel processo di semina che poi travaseremo in campo, nelle varie culture ortofrutticole. Culture ortofrutticole, immagino che però sono tante le attività che hai portato avanti in Serra. In questo momento ci sono dei tuoi compagni impegnati proprio lì, perché vorrei vederla? Sì, abbiamo una produzione di sterlizie, che sono queste piante tropicali che vengono chiamate anche volgarmente come uccelli del deserto oppure uccelli del paradiso. E la particolarità di queste piante è che fioriscono in inverno ed è strano vederle qui a Firenze. Quindi ora in Serra abbiamo ragazzi che si stanno occupando di questo. Quindi siamo arrivati al momento giusto, andiamo a vedere. E qui abbiamo l'assistente tecnico Pancrazio Benevento che si sta occupando di varie esercitazioni con i ragazzi. Salve professore, che cosa stanno facendo questi ragazzi? Dunque questa è una Serra di riproduzione e di mantenimento. In questo momento stanno effettuando una semina di semente e orticole, qui stiamo seminando, il basilico. Dopodiché i ragazzi la cassetta di riproduzione la portano sul banco e quindi provvedono a darle l'umidità con uno spruzzino che gli dà l'acqua abbastanza nebulizzata, altrimenti il seme andrebbe via perché è molto piccolo. Dopodiché ci sono dei ragazzi che stanno raccogliendo il prezzemolo da taglio che dopo averla portata direttamente sul mercato. Questa è una struttura di circa 360 metri quadri e praticamente completamente automatizzata sia nell'irrigazione sia nel riscaldamento. Vediamo un altro gruppetto impegnato con le sterlizie, andiamo a vedere cosa stanno facendo. Piante tropicali, strano vederle qui a Firenze. Sì, è una pianta tropicale che si è instaurata in nostro territorio all'incirca dieci anni fa. È una pianta molto rustica in quanto ha bisogno di veramente poco, cioè di concime, tanta acqua e ha una particolarità. Il fiore non si taglia come si fanno per le altre piante ma viene strappato dalla pianta. E poi penso che voglia anche calore perché qui c'è un bel caldino. Qui esige parecchio calore perché la fase di fioritura avviene nell'inverno dalle nostre parti e è una pianta che richiede tanto calore. E adesso andiamo a vedere anche cosa stanno facendo gli altri tuoi compagni proprio in campo. Andremo nell'azienda agraria ma intanto scopriamo quale azienda ci propone questa settimana la rubrica Campolungo. In questo caso è un po' poco lungo. Tricorato Tricorato Siamo all'interno del chiostro dell'Avazia di Monte Oliveto Maggiore, casa madre della congregazione benedettina olivetana, fondata per San Bernardo Tolomei nel 1319. Questa congregazione fa parte della confederazione benedettina e si occupa anche di lavorare i campi dell'azienda agricola. Sappiamo che il motto dei benedettini è ora ed lavora, quindi il lavoro manuale fa parte integrale della spiritualità dei benedettini. Noi, come eredità e donazione del nostro fondatore, abbiamo dei terreni che sono 850 ettari, in cui lavoriamo parte della nostra giornata. In questi campi coltiviamo grano duro, grano tenero, orso, favino e tutto questo ci serve per il sostentamento materiale, per avere sempre quella parte spirituale attiva. Anche abbiamo la parte del vino, abbiamo 6 ettari di vignetti, in cui abbiamo il Vermentino, il Cabernet Sauvignon e il San Giovese. Riusciamo a produrre nell'anno più o meno 40.000 bottiglie di questo vino. Facciamo la nostra attività commerciando questo vino, soprattutto nella cantina storica di Monte Olivetto, dove ognuno di noi fa il suo lavoro. Questa cantina è stata costruita agli inizi del Trecento, molto probabilmente era già in funzione prima dell'anno 1350. Il vino era un bisogno di sopravvivenza per i monaci di questa abbazia, in quanto questa abbazia sorge su un deserto. Ancora oggi questa zona si chiama Deserto di Acona. Perché il vino era così essenziale e così importante? Perché in questo luogo non ci sono né sorgenti di acqua né fiumi. Di conseguenza l'unica acqua che veniva raccolta dai monaci era acqua piovana e che nel 1300 scendeva giù dalle nuvole, bella pura, distillata, ma non atta all'alimentazione. Senza minerali, senza le varie sostanze che riescono a darci vita, darci sostanza. Di conseguenza i monaci, per ovviare a questo problema, per renderla bevibile e utile, la mescolavano sovente con il vino. Oggi il vino non è più prodotto in questi luoghi, in quanto sono protetti come monumento nazionale. I monaci però si sono organizzati costruendo un'altra cantina a inizio 900, che è stata ristrutturata e messa a norma per la produzione vitivinicola. La produzione è comunque rimasta qui nelle vicinanze, in quanto questa cantina si trova solo un chilometro in linea d'aria da qui. Quelle che vedete dietro alle mie spalle sono botti di primo 800 e più in là nella cantina se ne possono vedere anche di più nuove e risalgono ai primi del 900. Il monaco è quello che vive del proprio lavoro, quindi tutto quello che facciamo serve per il nostro sostentamento. Il monaco non vive tanto delle offerte, se no di quello che riesce a produrre, per cui fa parte della nostra spiritualità. San Benedetto dice che tutta la vita del monaco deve essere una preghiera. Quindi nel lavorare la terra, anche se collabora con questo disegno di Dio nella creazione, riusciamo a elevare il nostro spirito a Dio. Ed è il professor Geraci a seguire le attività qui nell'azienda agraria. Professore, vediamo un gruppo impegnato con le graminacee, un altro nell'orto. La cosa che le accomuna è l'attenzione per i prodotti biologici, giusto? Esatto. Noi come scuola studiamo ecologia, quindi anche i ragazzi hanno questa diversità nella conoscenza del biologico. Abbiamo delle graminacee, seguiamo le graminacee come concimazioni. Concimazioni. Da una parte diamo concimi chimici, dall'altra parte invece un concimo biologico, più che altro un compost che produciamo noi. Dall'altra parte invece ci sono delle piante leguminose, che sono i baccelli biologici anche loro, con delle coltivazioni in serra, in tunnel, con spinaci. Quindi vengono trattati esclusivamente con la mano d'opera, che sono i ragazzi, e con prodotti naturali. Francesco, anche tu ti occupi dell'orto bio. Intanto, quale cure devi apportare per quest'orto? Quali sono le differenze rispetto a un orto comune? Beh, è senz'altro una differenza abbastanza sostanziale, poiché in un orto biologico c'è bisogno di più mano d'opera e più attenzioni. Mentre in un orto coltivato con dei concimi chimici, assolutamente può essere lasciato un pochino più in pace, lasciato stare. Una curiosità Francesco, tu che consumatore sei, ti aiuta anche avere una maggior coscienza critica rispetto al consumo, lavorare con questi prodotti naturali? Beh, senz'altro. Sono un consumatore strettamente biologico, dopo questa esperienza, senz'altro che ha aiutato e mi ha fatto crescere sotto questo punto di vista. Certo, ci sono degli aspetti, che è quello del, diciamo, un pochino dell'aspetto economico, che è chiaramente un prodotto biologico, ha bisogno di essere più seguito, di conseguenza una volta che arriva sul mercato è più costoso, però senz'altro non c'è nessuna moneta che possa, insomma... Pagare la salute, perché la salute non ha prezzo, davvero. Allora, con questa bella immagine di giovani consumatori critici, di ragazzi con le mani nella terra, vi salutiamo perché il tempo a nostra disposizione è davvero finito. Ringraziamo il professor Paolo Mazzocchi, Gianluca Terrazzano, il professor Geraci e Francesco, ma anche tutte le guide dell'altra scuola, perché davvero oggi abbiamo scoperto una scuola all'insegna dell'ambiente, le radici del futuro tornano la prossima settimana. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito, arrivederci.